un'iniziativa importante la prima volta che un grande imprenditore e un marchio simbolo del nostro made in italy scendono in campo accanto alla nostra leida per contrastare il randaggismo la signora Brambiglione un giorno è venuta a trovarmi mi ha sensibilizzato sull'argomento degli animali in tutte le loro sfaccettature e mi ha chiesto se potevamo dargli una mano quindi io sono un amante degli animali come tante ma nella mia famiglia abbiamo tanti soprattutto cani a casa da quando ero bambino quindi mi ha trovato sensibile come lo sono praticamente tutti quelli che hanno un animale a casa abbiamo deciso di fare qualcosa di più di un semplice aiuto personale ma di vedere se si può mettere insieme un progetto dove imprese grandi anche piccole quindi è non solo aspettare la sensibilità il cuore delle singole persone ma proprio delle imprese che studiano dei progetti che possano portare idee e anche mezzi per sostenere le cause della vostra associazione quindi ho fatto tutto l'onorevole e quindi questa attenzione verso sociale io credo che debba davvero distinguere tutte le persone che hanno poi la possibilità concreta di scendere in campo per combatterlo chiunque può essere al nostro fianco sul sito www.leida.info vi è il codice IBAN e tutte le informazioni per poter donare una piccola cosa piuttosto che tanto bene sono tutte risorse che ci aiutano a salvare delle vite perché i nostri randaggi vivono e sopravvivono sulle strade vittime alla fine di incidenti d'auto muoiono per l'inedia o tante volte per la mano di qualche delinquente